Ora la politica, il tema dei vaccini, anche oggi in primo piano con la Commissione regionale Istruzione, chiamata a dare un parere su un progetto di legge dell'opposizione di centrodestra e un emendamento della maggioranza sulla copertura vaccinale in nidi e materne. I pareri non sono ancora concordi. Francesca Vigori. Forte anche della sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune di Trieste, l'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale punta ad allargare l'obbligatorietà delle vaccinazioni per i bimbi che si iscrivono a nidi e materne in tutto il Friuli Venezia Giulia. Nessuna deroga per chi non è vaccinato per scelta dei genitori, non potrà avere accesso alle scuole dell'infanzia per non mettere a rischio i bimbi che invece per patologie croniche o tumori non possono avere la stessa copertura. Favorevoli ai vaccini ma contro l'obbligatorietà i consiglieri del Movimento 5 Stelle. L'obbligatorietà intanto non garantisce una copertura vaccinale perché ci sono paesi europei in cui le vaccinazioni sono solamente raccomandate eppure abbiamo un'altissima copertura. Secondo noi la vaccinazione che serve di più è quella contro la disinformazione e quindi bisogna puntare su un confronto e su informare, dare informazioni scientificamente corrette alle famiglie. Grazie a tutti.